Eccoci qua, eccoci qua, lui, anche lui, vogliamo anche l'amico, vogliamo anche l'amico, venite, venite È una classe, è una classe, conosciamo subito la classe Allora, iniziamo a conoscere i nomi, nomi? Prima ti faccio vedere la spilla La spilla c'è scritto 1976, voglio vedere anche C'è scritto Made in 1976 In English, where are you from? Ardesio, Bergamo Ardesio, Bergamo, allora i vostri nomi? Chiara E? William, è la rossa che si chiama? La rossa, è Samantha Ciao Samantha d'Ardesio Allora, scappoglio Allora, uomo, vieni qua in mezzo Allora, dimmi un pregio o un difetto delle tue amiche, dai, un pregio o un difetto delle tue amiche Pettini, non lo so, presi simpatiche, carine, belle In una note di trasgressione chi scegli? La rossa o la mora? Tutte e due No, devi scegliere, se devi scegliere una, la rossa o la mora? Allora, se ne prendo una mi picca l'altra, quello faccio? No, non lo ti picchi No, allora la rossa Scegli la rossa Ma come mai? Eh, c'è una differenza di altitudine di spilla, vedo, eh Allora, Ardesio, siete pronti a festeggiare la vostra cena di classe? Tantissimo Oh, dai, venite qua tutti insieme e facciamo un saluto Sì, sì, dai Un saluto ai miei ragazzi di Ardesio, tutti qua Ardesio, Ardesio, tutti qua che facciamo un saluto Dai, la T-Lover, Ardesio, tutti qua che facciamo un saluto Verso la camera Tutto, tutto, 76, pronti? Pronti? Al mio 3 Al mio 3 dovete dire Ardesio, Italia 1, ok? Dovete dire 1976, Ardesio Pronti? Dovete dire 1976, Web TV Convento È facile, è facile, è facile Ok, siete pronti? Un grande urlo, eh Ardesio, Bergamo, è pronti? Gli amici di Bergamo ci mandano questo messaggio Vai, fuori la voce 1976, Web TV Convento Applausi! Grazie mille! 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 Grazie.